E' proprio vero come dice Sant'Agostino che chi canta prega due volte ed in questo caso il cantare è allo stesso tempo uno strumento per guarire l'anima ma anche il corpo contribuendo al funzionamento del Comfort Community Hospital di Balacca nel Malawi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ma chi canta non solo guarisce ma costruisce quel mondo nuovo che tutti desideriamo. La speranza non è che tutto vada bene ma che abbiamo la forza di costruirlo questo bene. A gloria di Dio e per il bene di tutti. Tra 47 anni il padre Mario Pacifici, missionario monfortano di Entratico in provincia di Bergamo, ha fatto del Malawi la sua ragione di vita. Un vulcano il padre Mario che per aiutare l'ospedale di Balacca nel sud del paese ha messo su l'alleluia ben. Cosa manca per questo ospedale? Cosa sarà questo ospedale? Il nostro ospedale che è chiamato Comfort Community Hospital, dalle parole di Esaia, Comfort, Comfort My People, che dà aiuto a circa 90.000 pazienti all'anno. Abbiamo 2.300 nascite in un anno. È dignità donata grazie a questo sostegno che viene dal cuore buono che è il cuore stesso di Gesù. Quindi chiunque ama l'altro ama Dio e chi ama Dio ama l'altro. Il nostro ospedale per andare avanti ha bisogno del sostegno delle medicine.